L'Ecco e la sua storia. L'associazione ex alunni dell'Iceo Classico Manzoni ha dato alle stampe il primo volume di una trilogia dedicata alle vicende della nostra città e del suo territorio. Autore è lo storico Angelo Borghi. Ecco questo è il primo volume che ha delle cose interessanti. Un punto interessante è il tentativo di L'Ecco da svincolarsi dal predominio di Milano, diciamo sulla metà del 1100 per intenderci, oppure sulla metà del 1200 quando l'impero con Federico II, si riprende in tentativi di autonomia anche armata, cose abbastanza complesse. Poi ci sono anche i libri costruiti per capitoli naturalmente, ma che mettono insieme nello stesso tempo metti economici, politici, sociali, culturali. In modo che si possa vedere ogni periodo che cosa ha comportato poi dal punto di vista della vita della popolazione, per quanto naturalmente è possibile ricostruire, ovvio. Il libro diciamo non è in vendita, quindi non ha un prezzo di copertina. Chi volesse il libro si dovrà iscrivere all'associazione lasciando un contributo oppure potrà aderire all'iniziativa lasciando il contributo alla fondazione comunitaria dell'Ecchese. L'associazione ha costituito un fondo presso la fondazione e le persone potranno ricevere il libro lasciando un contributo alla fondazione. Sarà anche in qualche libreria che sarà, diciamo, acquistabile sempre come contributo lasciato all'associazione ex alunni del liceo. Grazie. Grazie.